Arrivi e partenze. Per quanto riguarda gli arrivi ricordiamo oggi Cernigoi, poi il centrocampista Pontisso, che sicuramente è un centrocampista di categoria che ha militato in questi anni nel Vicenza, classe 97 di Cernigoi. Avevamo parlato nei giorni scorsi, una punta che arriva dal Serenio in prestito con diritto di riscatto, mentre Pontisso, classe 97, a titolo definitivo dal Vicenza. Erano arrivati nei giorni scorsi De Rizio, Lascano e Ierardi. Lascano è un giovane centrocampista spagnolo, classe 2003, che comunque continuerà a crescere nella primavera di Iervese. De Rizio ha già giocato in prima squadra, Ierardi ha debutato nella vittoriosa trasferta di ieri di Viterbo. Questi sono gli ingressi, queste sono le operazioni d'entrata ratificate dal club biancazzurro. Passiamo alle uscite, perché le uscite intanto c'è da dire che è andato via. Proprio pochi minuti fa c'è stata la definizione di questa trattativa al Sud Tirol. Michael De Marchi, che dunque lascia il Pescara, ma in prestito secco. Si trasferisce al club di Bolzano. Gigliola che guida la classifica del girone A del campionato di Serie C, tra l'altro vanta la difesa meno perforata d'Europa. Cinque gol al passivo soltanto la squadra di Javorcic. Dunque De Marchi in prestito secco al Sud Tirol. Anche Bocic è stato mosso dal club biancazzurro perché si trasferisce in prestito secco alla Pistoiese, il club che appunto milita nel campionato di Serie C, lo stesso girone in cui è incluso il Pescara. Galano, notizia di oggi, tutto fatto con il Bari, dunque torna nella società in cui è cresciuto, l'esterno foggiano classe 1991 e le uscite quindi sono queste. Sacò, Bologna a titolo definitivo, Baca, un giovane del 2004 al Perugia. A titolo definitivo anche questa operazione, ma il Pescara conserva il 50% sulla rivendita futura. Radaeli all'Alcione Milano, club di Serie D, Valdifiori che ha risolto il rapporto due settimane al solo con il Delfino, Sanogo era un prestito e è tornato al Benevento, Marilungo alla Prosesto, prestito su prestito perché era di proprietà e di proprietà della Ternana, Rizzo al Messina, Galano come detto al Bari, Bocic alla Pistoiese e De Marchi in prestito secco al Sud Tirol. Passiamo ora al Teramo perché il Teramo oggi ha definito un'operazione in uscita, se ne è parlato tanto in questi giorni, si tratta naturalmente di Mungo, Mungo che è stato prelevato a titolo definitivo dalla Viterbese, contratto sino al 30 giugno 2024. Tra l'altro la Viterbese ha depositato il contratto di Mungo praticamente 20 minuti fa e ha tenuto con le mani legate il Teramo che andava a caccia di un esterno d'attacco che potesse fare anche, ricoprire il ruolo di attaccante centrale, tra l'altro il Teramo avrebbe voluto anche De Marchi ma De Marchi è passato come già detto in prestito secco al Sud Tirol. Trasciani è andato al Messina e poi Bellucci, c'erano delle perplessità perché Bellucci ha rimediato un infortunio, sembra meno grave del previsto però il Teramo si era cautelato, aveva chiesto al Modena ingegneri, sembrava tutto fatto per il classe 92 invece ingegneri, alla fine ha rifiutato. Lombardo è rimasto alla corte di Federico Guidi che non rischia nulla, così ci ha detto Sandro Federico. Dunque la posizione di Guidi dopo la sconfitta di ieri a Imola è solidissima.